L'istituto comprensivo Padalino, in particolare il tetto, potrà essere ristrutturato grazie ai 400.000 euro individuati dalla giunta fanese, nell'ambito degli interventi che rientrano nel piano Scuole Nuove, un piano determinato dal Governo nazionale per consentire agli enti locali di spendere nuovamente del denaro per l'edilizia scolastica. Inoltre, l'assessore ai servizi educativi, Samuile Mascarin, ha confermato l'utilizzo dei fondi sbloccati da Renzi per edificare la scuola di Cucurano Carrara, in quanto quelle già esistenti, oltre ad essere vecchie strutture, a breve non saranno più nelle condizioni di accogliere tutti i bambini nelle scuole dell'obbligo. Questo prevede una spesa complessiva da parte del Comune di 5 milioni di euro nei prossimi anni. Finalmente vengono sbloccate delle risorse, degli spazi finanziari che i Comuni sono finalmente nelle condizioni di poter spendere, perché si tratta, lo ricordiamo, di risorse dei Comuni che fino ad oggi sono state bloccate proprio dal patto di stabilità. Invece, in questo caso, noi abbiamo un spazio finanziario di poco più di 5 milioni di euro, divisi per annualità, che ci consentono di intervenire, per l'appunto, in maniera forte sull'edilizia scolastica. C'è questo primo intervento importante sulla Padalino, ma soprattutto, lo ricordiamo, questo intervento di una nuova edificazione, una nuova grande opera di edilizia scolastica, di cui la nostra città, dopo tanti anni, aveva assolutamente bisogno. Inoltre, la Giunta propone anche di recuperare il centro anziani Sant'Arcangelo, l'ex caserma dei Carabinieri, l'ex tribunale e di ristrutturare la parte superiore del mercato ittico. E a proposito di patto di stabilità, l'amministrazione ha messo all'asta 22 beni, tra immobili e terreni agricoli. Per questo c'è un bando di gara che prevede due vendite pubbliche, una il 16 di settembre, mentre la seconda, il 30 dello stesso mese, nel caso in cui quella precedente, dovesse andare a vuoto. Tra i beni messi in vendita c'è anche il comparto direzionale e commerciale dell'ex zuccherificio, quattro negozi in centro storico, di cui tre in Corso Matteotti e uno in Via Montevecchio e un altro ancora vicino all'ex foro boario. Oltre a questi, ci sono diversi terreni agricoli dati in affitto a giovani agricoltori. Coloro che sono interessati a partecipare a queste aste, il tutto, le spiegazioni, a parte gli uffici del patrimonio che sono a disposizione per informazioni, tutto può trovare nel sito del Comune di Fano, sia l'elenco dei beni, le modalità come partecipare all'asta.